buongiorno che hai d'accendere per favore grazie grazie finalmente il sole era da un po che non si vedeva si sente molto un po lo so perché parlo del sole o però a me manca io mi chiamo fausto scusa mi puoi andare un po più in là per favore a fumare perché perché non vedi che c'è il culo di cuore scusa io non me ne ero neanche accorto perdonami ma perché non hai pantaloni ho fatto un provino bene bravo e ti hanno presa non credo beh allora se non ti prendono sono dei pazzi davvero dice così perché non hai visto di altre non lo so questo però io ti prenderei subito e tu invece per lavorare qui ti vesti da pinguino no perché dici da pinguino è bello è chic non lo vedi ma sì però sempre un pinguino beh vabbè però un pinguino di prende vuoi sapere la più cara 15.000 euro 15.000 euro per dormire solo settima la vorresti vedere si può io posso l'amore